Sì, ho letto, è possibile una cosa del genere? Se è accaduto, è possibile. Vediamo, 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 sì, quello che leggo francamente crea disappunto è francamente non accettabile, poi vediamo le dimensioni che escono fuori, insomma io leggo quello che scrivete voi, se è un caso isolato è grave e può anche, come dire, capitare, se sono più casi diventa un fatto particolarmente grave che interroga le responsabilità politiche, poi c'è chi si considera subito parte l'essa e, come dire, evidentemente mette le mani avanti, però, insomma, credo che si debba molto riflettere su questo. Io ho sempre detto, il momento elettorale è difficile, quindi può capitare l'errore, può capitare anche che accada qualcosa che non debba accadere, vediamo le dimensioni perché già un fatto è un fatto molto grave, perché penso soprattutto alla vittima in questo momento, che è la vera, francamente parte l'esa, di questa vicenda. Se poi i casi, come mi dicevano stamattina, dovrebbero essere di più di uno e allora chiaramente diventa un fatto particolarmente grave da un punto di vista politico e da un punto di vista morale. Grazie mille. Grazie a voi.